Prima di parlare dell'argomento di oggi volevo informarvi di una novità molto importante per quanto riguarda l'app numero Diez che vi invito a scaricare se ancora non l'avete fatto. Avrete la possibilità tramite un concorso iniziato da poco di poter vincere una copia del nuovo FIFA 23 per qualsiasi console. L'uniche cose che dovrete fare sono semplicissime. Innanzitutto scaricare l'applicazione tramite il link che vi metto in descrizione, registrarvi inserendo la vostra squadra del cuore, andare sulla sezione redazione e commentare il primo video che troverete scrivendo FIFA 23 tutto attaccato. Vi basterà fare solo questo e avrete la possibilità fino al 23 ottobre quindi affrettatevi di poter vincere una copia omaggio che di questi tempi non è per niente male. Detto questo vi mando la sigla e possiamo cominciare. Dico la sincera verità, oggi non avevo intenzione di principio di portarvi un video dedicato alla Roma fondamentalmente perché ci sono veramente poche novità di cui parlare. Ieri pomeriggio è uscito fuori la voce dell'arrivo ormai imminente di Solbaken a gennaio ma ne ho già parlato in un video dedicato ormai più di un mesetto fa quindi rischierei soltanto di ripetermi e di mettere due video sullo stesso argomento uno di seguito all'altro nella rubrica parliamo di mercato. Ho letto un po' di commenti però sui miei ultimi video visto che io ogni tanto mi dedico un po' a controllare i commenti, cancellare quelli offensivi, rispondere a chi magari mi chiede qualcosa su un determinato argomento e ho letto un commento che per carità non era volgare o altro ma che mi ha fatto pensare e mi ha dato appunto l'ispirazione per registrare questo video. Un commento che diceva fondamentalmente questo è quello che porta a farsi andare bene una Roma che non sa giocare sotto il video di Roma Betis 1 a 2 come a dire che la colpa è un po' anche dei tifosi che non criticano una squadra anche quando vince giocando male. Poi sono arrivati altri commenti di gente che però non parlava in questo modo ma semplicemente offendeva Murigno criticando aspramente il gioco che si è visto in queste ultime settimane ma in generale da quando il portoghese siede sulla panchina della Roma e quindi ho preso la palla al balzo e vi sto portando questo video perché volevo affrontare con voi questo discorso. Allora, partiamo da un presupposto che molti tifosi fraintendono la normale felicità per una vittoria della Roma come un'esaltazione dell'allenatore o del gioco in primis. Io sono su YouTube ormai da 8 anni e posso dire di essermi passato diverse squadre con diversi giocatori, diversi risultati, diversi allenatori passando dai vari Garzia, Spalletti, Fonseca, Ranieri, Di Francesco, Murigno eccetera eccetera non in questo ordine cronologico e indubbiamente Murigno non è tra quelli che ha portato un calcio spettacolare e risultati clamorosi. È vero, ha portato un trofeo dopo 14 anni di astinenza però se guardiamo proprio il gioco espresso in campo poche volte siamo rimasti effettivamente soddisfatti e consci di vedere una squadra forte con delle belle individualità che sa effettivamente giocare a calcio. La cosa che però mi dà fastidio è che non posso neanche festeggiare io come altri tifosi un successo della Roma anche giocando male che subito deve esserci la critica come se fossimo noi il male stesso della Roma. Se io mostro felicità per un risultato positivo della mia squadra non vuol dire che non pensi alle cose brutte che ho visto in mezzo al campo per esempio nella vittoria contro il Lecce io ho mostrato soddisfazione per modo di dire perché comunque hai vinto puoi aver vinto 2 a 1 soffrendo con il Lecce o 9 a 0 con 9 gol di Ebram ma a parte la prestazione del singolo sempre tre punti rimangono quindi il discorso principale è questo e molti non riescono a capirlo di fronte ad una Roma che ha delle evidenti difficoltà non solo dal punto di vista del gioco ma anche degli infortuni perché qualcuno dirà che è una sciocchezza ma avere un infortunio costante a partita diventa pesante soprattutto per una squadra che ha voluto fare determinati acquisti per allungare la rosa numericamente e qualitativamente quindi di fronte a questo genere di situazioni credo che essere troppo pesanti non porti a niente cioè io posso dire benissimo che con il Lecce potevi fare di più potevi chiuderla prima potevi stare con un risultato più tondo e non soffrire fino all'ultimo secondo con un solo gol di vantaggio per l'amor di Dio però bisogna anche guardare realisticamente la situazione attuale della Roma per magari essere consci del fatto che non si può chiedere tanto di più a questa squadra perché a livello numerico ti mancano tanti giocatori adesso ritornerà Carlsdorp con la Samp ma non è che finora ha fatto grandi cose l'olandese quindi è un recupero comunque buono perché ti dà un'alternativa in più a destra ma capite anche che non c'è questo gran vantaggio rispetto magari ad un ritorno di Wijnaldum che ci servirebbe come il pane il problema fondamentalmente è questo la Roma ha voluto fare tanto per migliorare lo scorso anno ma se voi andate a vedere anche numericamente la squadra è rimasta quella perché adesso Di Bala per un mesetto e mezzo starà fuori Selic per due mesi idem Wijnaldum fino a gennaio praticamente non lo vedrai e quindi è chiaro che le aspettative ci stanno ma fino a un certo punto perché fondamentalmente con questa assenza siamo quelli dell'anno scorso né più né meno ci stanno le critiche all'allenatore ci mancherebbe altro io non voglio fare questo video per difenderlo in maniera pesante come se non potesse essere mai criticato perché per me il troppo non va bene in nessun caso cioè sia per chi lo attacca in maniera troppo pesante sia chi lo difende per qualsiasi cosa fa cioè io sinceramente trovo un pochino ridicolo vedere pagine che esaltano qualsiasi cosa il portoghese faccia in partita, in conferenza eccetera eccetera cioè secondo me serve una giusta via di mezzo un compromesso diciamo non bisogna addossargli tutte le colpe del momento attuale della Roma perché comunque statistica alla mano la Roma è la squadra che crea di più e subisce di meno o comunque tra le prime con la differenza che difensivamente vuoi per una situazione negativa di lui Patrizio vuoi per sfortuna o altro ogni tiro che ti fanno è gol a livello offensivo ti crei tante opportunità ma non la riesci a mettere dentro poi qui possiamo stare sempre a ripetere che il problema è anche del modulo o del centrocampo possiamo lamentarci del fatto che Mourinho si sia un po' intestardito su questa costante di mettere Matic-cristante 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 ma a parte questo secondo me non si può non essere contenti quando alla fine il risultato arriva io sono dispiaciuto per quello che abbiamo fatto fino in Europa perché mi aspettavo sicuramente qualcosa di più però se guardiamo il campionato e il girone ancora tutto è possibile io credo che dobbiamo semplicemente pensare che vista la natura di questo campionato con tanto di stop nel mezzo per il mondiale la cosa migliore sarebbe arrivare all'ultima giornata quindicesima di campionato nel miglior modo possibile anche tirando la carretta stringendo i denti giocando di merda scusatemi il termine ma facendo quanti più punti possibile perché poi questo lo dico e qui lo confermo sia per quanto riguarda noi ma anche le altre squadre da gennaio in poi comincerà un altro campionato che può essere un miglioramento per qualcuna un peggioramento per altre una stabilizzazione per altre cioè può darsi anche che squadre che finora hanno fatto bene continueranno a farne bene e chi ha iniziato male continuerà a fare male ma uno stop di due mesi anche se i giocatori non vanno lì dal mondiale è comunque uno stop importante quindi io credo che bisognerà giudicare soltanto alla fine della stagione che comunque sarà falsata perché per me mettere un mondiale in mezzo al campionato fare in modo che nella prima parte si giochino partite ogni tre giorni per stringerle e fare in modo che si arrivi al mondiale con almeno i gironi di Europa League fatti e 15 giornate disputate è una follia poi il mondiale stesso è ancora peggio quindi per me rimane una stagione che indipendentemente da ciò rimarrà falsata ma anche se la Roma dovesse vincere un trofeo per dire comunque è una stagione diversa rispetto al passato quindi lo dico adesso così almeno dopo non dite che è un pensiero che è venuto fuori dopo e non prima ma comunque tornando all'argomento principale del video io non sono certamente contento di come gioca la Roma perché qualcuno mi ha criticato in quanto soddisfatto moderatamente dell'ultima partita perché in realtà abbiamo giocato malissimo non si può essere contenti ci stiamo accontentando della mediocrità no assolutamente no io non è che mi accontento di quello che sto vedendo e che sarei contento di vedere sempre la Roma in questo stato però se andiamo a vedere in casa del Betis una squadra che sa giocare a calcio terza in campionato o comunque nelle prime posizioni della Liga dietro soltanto a Barcellona e Real Madrid andare là e giocare una partita alla pari anche con più opportunità di segnare e meritando sul campo per me è una buona cosa considerando che ti mancavano Dybala Zaniolo Wijnaldum Selic Karstorp e compagnia bella è questo semplicemente il punto quindi non mi va di essere trattato come un murignano solamente perché magari in questo genere di momento guardo più al risultato che alla bellezza del gioco adesso ci sono squadre come il Napoli che abbinano entrambe le cose per l'amor di Dio però noi dobbiamo guardare il nostro noi dobbiamo pensare che comunque la vittoria va sopra qualsiasi cosa e poi lo ripeto un'altra volta dopo Roma-Atalanta per me la Roma può giocare di merda tutte le partite purché si ottenga la vittoria meglio un Roma-Lecce 2-1 giocate in quel modo che un Roma-Atalanta 0-1 in cui tu giochi bene ma alla fine non la metti dentro questa è la sintesi del mio discorso spero di essere stato chiaro non voglio far passare il messaggio che i tifosi debbano accontentarsi di vedere la Roma giocare così male però nel calcio credo che ci siano anche delle priorità e se dovessi scegliere di vedere una Roma brutta ma vincente piuttosto che una Roma bella e perdente sceglierò sempre la prima opzione anche perché la Roma negli anni tante volte è stata bella da vedere la prima Roma di Spalletti faceva un calcio incredibile un po' come lo fa il Napoli adesso cioè io rivedo un pochino di quelle cose cioè una Roma che magari era anche un po' operaia con Taddei per Rotta Manzini ma giocava un grande calcio però vai a vedere è vero hai vinto due Coppa Italia e una Supercoppa ma non hai fatto mai quello step per poter alzare effettivamente lo scudetto quindi credo che dobbiamo un po' ragionare anche su quest'ottica abbiamo visto tante volte una Roma spettacolare adesso non lo siamo per niente ma non vuol dire che festeggiando delle vittorie brutte non consideri quello che sto vedendo in campo cioè io come altri tifosi guardiamo a quello che è più importante nel gioco del calcio spero di essere stato chiaro detto questo vi mando un saluto fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate e ci vediamo come sempre ad un prossimo video sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi ciao ciao Grazie per la visione!